Lozano intanto parto dal fatto che sei il quinto rigorista stagionale, ti ho visto che proprio lo volevi calciare quel rigore, vero? Sì, sì, la verità è che volevo calciarlo e tutti mi hanno detto che vai avanti a calciarlo e va. Mi ha fatto piacere calciarlo. Oggi è la tua serata, a Bergamo era stata quella di Elif. Ogni partita in questo Napoli c'è un protagonista diverso. Tu come la stai vivendo questa cosa? No, penso che tutti siamo protagonisti. Abbiamo fatto un buon lavoro all'inizio della temporada, allora dobbiamo migliorare qualcosa, però penso che lavorare così tutti i giorni è bene, bene. Una battuta. Oggi avete segnato tu e Zielinski, vi affronterete molto probabilmente nella prima del Mondiale. Ve lo siete detti, è già un antipasto questo. Sì, è vero, abbiamo parlato della prima partita. Penso che va a essere una bellissima partita speciale perché anche Zielinski è un gran ragazzo, allora penso che è una partita molto molto bella.